Di schemi per lavori a maglia ce ne sono un'infinità, alcuni gratuiti e altri a pagamento. Quali sono i modelli per imparare a sferruzzare? Lavorare a maglia è terapeutico, e non è un hobby dedicato esclusivamente alle donne. Negli ultimi anni, come non mai infatti, anche gli uomini si sono lasciati trasportare dal mondo della lana. Navigando sul web si trovano tantissimi schemi lavori a maglia, per tutti i livelli, sia esperti che principianti. Nell'immaginario collettivo, lavorare a maglia equivale ad una sola immagine, la nonna che sferruzza davanti al caminetto. Fortunatamente, negli ultimi anni, questo lavoro manuale è tornato in auge, e soprattutto, non è più di solo appannaggio femminile. E' altresì vero che sono principalmente le donne a dedicarsi a questo hobby, e a cercare online, i modelli maglia e ferri più diversi. C'è una bella differenza, infatti, nello sfoggiare un maglione nato dalle proprie mani, quindi unico, rispetto a quelli in serie che si trovano in commercio. Non solo pullover, ma anche sciarpe, calzini, coperte, borse e chi più ne ha ne metta. Online ci sono tanti video tutorial per imparare a sferruzzare, così come ce ne sono tanti altri dedicati a utenti esperti. Dopo aver scelto i ferri, la cosa più importante è trovare dei modelli su cui esercitarsi. Il sito migliore è Mani di Fata, che permette di scegliere una specie di pacchetto completo, oltre al kit filati. Fornisce spiegazioni, passo dopo passo, con schemi di lavoro ad hoc. Ovviamente, tutti i modelli maglia e ferri di questa piattaforma sono a pagamento. Se invece volete cimentarvi con modelli maglioni e ferri gratuiti, non avete che l'imbarazzo della scelta. Ad esempio, sul sito Schemi Maglia troverete un'infinità di lavori, con spiegazioni step by step. E' bene sottolineare che su questa piattaforma, anche i modelli definiti semplici non sono un vero e proprio gioco da ragazzi. Garn Studio è lo spazio virtuale perfetto per voi se non sapete neanche come si tengono in mano i ferri. I modelli dei lavori sono gratuiti e soprattutto sono spiegati passo dopo passo fin nei minimi dettagli. Ci sono tantissime maglie di lana e i ferri, con foto, indicazioni e suggerimenti per fare un bel lavoro.